Ciao a tutti gli appassionati di gossip e newsita. Oggi siamo qui con un'anteprima esclusiva che vi farà svelare tutti i retroscena della vita di Eleonora Giorgi, la straordinaria attrice settantenne, alle prese con una battaglia contro il tumore al pancreas. In questo video, vi racconteremo ogni dettaglio del suo coraggioso percorso attraverso la chemioterapia presso il prestigioso Cancer Center Humanitas di Milano. Eleonora ci svela particolari intimi sulla sua terapia durata ben 54 ore, con due potenti farmaci e un dispositivo sottocutaneo che inietta le sostanze attraverso un catetere. Parleremo dell'importanza della scelta del centro oncologico e della fiducia nel professor Armando Santoro, che ha guidato Eleonora in questa difficile fase della sua vita. La sua storia è veramente commovente, e vogliamo incoraggiarvi a esprimere il vostro supporto lasciando un like se siete toccati da questa testimonianza di resilienza. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale Gossip e News Ita per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie e pettegolezzi del momento. Prima di iniziare, vi chiediamo di lasciare un like e un commento se volete esprimere il vostro sostegno a Eleonora Giorgi. E ora, senza ulteriori indugi, cominciamo questo viaggio nel mondo del gossip e delle notizie italiane. E alla fine di questo emozionante racconto, vi invitiamo nuovamente a iscrivervi al nostro canale Gossip e News Ita se non l'avete ancora fatto. Lasciate un like se avete apprezzato questo video e condividete la vostra opinione nei commenti qui sotto. Grazie mille per essere con noi oggi, e ci vediamo al prossimo video con altre esclusive di Gossip e News Ita.